Perché il Teatro della Polvere e come nasce? Nasce per l'intento di dare a questa città un qualcosina in più. Crediamo di riuscire a breve di dimostrare quello di cui siamo capaci. Perché Teatro della Polvere? Perché la polvere è sempre presente in un teatro. Inoltre, con la polvere siamo venuti a contatto molto spesso in questo periodo, con i lavori e tutto. E crediamo che sporcarci le mani con la polvere sia sintomo di qualcosa di grande. Dimostra un certo sforzo, un certo nostro impegno. Un'avventura che arriva da lontano e i ragazzi del culto sono diventati grandi. Sì, dopo pochi anni siamo arrivati ad avere un teatro nostro. È qualcosa che non avremmo mai creduto forse fino a poco fa. Però questa associazione è diventata grande. I ragazzi stanno diventando adulti e credo che se si crede in qualcosa bisogna avere il coraggio di crederci fino in fondo. La stagione? Sono cinque spettacoli. Il primo sarà Molto rumore per nulla di Shakespeare. Poi faremo un favolone per adulti, La maledizione. Poi ci sarà il primo spettacolo esterno della nostra breve vita, che richiamo per Faggiani, con Luca Ciccolella, un talento del territorio, che torna nella sua città. Poi ci sarà L'inferno, ispirato naturalmente all'omonima opera dantesca, e Cinque tazzini, uno spettacolo che parla di disoccupazione giovanile, un qualcosa che però tratteremo come nostro stile con anche leggerezza. Il tragicomico è uno stile che a noi piace molto e credo che sia molto apprezzato. Cultura e passione? Beh, sì, quando si fa questo determinato tipo di attività, non ci si può discostare da sapere il fatto che si fa cultura. Bisogna dare un messaggio importante, così come non si può fare senza la passione. L'arte fatta in modo freddo non arriva. Deve arrivare al pubblico qualcosa e senza passione non arriverà mai nulla. L'arte fatta in modo freddo non arriva.